Buongiorno da Francesco Roselli, Cizzart, anche oggi nuovo video nelle campagne di Calitri. Siamo sulla zona, per chi conosce le nostre contrade, siamo abbastanza vicino alla zona di Vetrano, comunque le contrade orientali, siamo nel ballone del Cortino che ce l'ho qui davanti, mentre scorro verso giù e lassù si vede Calitri e la valle del Cortino è proprio quella a destra. Sono venuto a vedere una casa che osservavo sempre da lontano, l'ho vista abbastanza grande, sapevo che era a due piani e quindi ho deciso di venire a vedere se potesse avere qualcosa di interessante. Abbiamo già esplorato perché oggi sono in compagnia per la prima volta con Gianluca, non con Andrea e quindi vedremo, abbiamo già visto la casa che è abbastanza grossa, adesso vi farò vedere questa qua la struttura, abbiamo già osservato qualcosa, ci siamo fatti le nostre impressioni e abbiamo dato una sistematina anche all'ingresso. Si nota la grandezza della casa, è arrivato anche un pagiano, eccolo qua, mi è passato davanti in maniera impressionante, non pensavo che potesse arrivare in faccia un altro po', si è spaventato, peccato. Allora, adesso faccio una breve panoramica di questa abitazione, perché purtroppo ho dimenticato la fotocamera in macchina e quindi ho poco, poca possibilità di vedere. Allora, vediamo così, ok, sto facendo un po' di prove. Allora, questo è l'ingresso della monumentale, è piuttosto monumentale, molto alto, quindi come se in passato fosse stato altro, perché è molto grande, però abbiamo visto all'interno che c'è, adesso vi spiegherò, che c'è un solaio, c'era un solaio, una volta abbastanza grande, quindi probabilmente dava luce al solaio. Questa è la parte che sto inquadrando, è la zona, diciamo, patronale, la parte abitativa. Questa qua è una stalla. Abbiamo trovato anche uno degli oggetti tipici del nostro HLT, che è un mummolo, tronco conico, in questo caso non cilindrico. Adesso vi faccio vedere anche sotto il balcone, quindi è una zona abbastanza... qualcuno che ha realizzato quest'opera comunque aveva grosse finanze. Questo è l'interno invece, fatto molto bene, con tutte le pietre messe per fare la volta a botte, e i fori sono quelli del solaio, che deve essere molto importante, è calpestabile sicuramente, perché i fori sono grandi, quindi anche le travi, che vanno per una lunghezza di circa 7 metri da un lato all'altro. Qui c'è una bella lesione che corre, quindi non starà molto prima di che ci sia un crollo, spero non in questo momento. Lì poi c'è il camino, dove probabilmente si quagliava, si facevano i prodotti caseari, perché questa è una stalla abbastanza grandicella, con delle nicchie, dicevo prima del solaio, importante, calpestabile, ma molto grande, perché comunque 7-8 metri di luce sono tanti. In fondo c'è la grotta, probabilmente per sistemare delle cose fresche, e il motivo per questa grande apertura, che è contro luce, la immagino per chi saliva, perché questo solaio copriva l'intera superficie di questa stalla. Lo capiamo dal fatto che sia calpestabile, sia per il fatto che siano grandi le travi, ma soprattutto perché qui si vede una porta murata. Questo era l'accesso da sopra, dall'esterno si accedeva a questo solaio calpestabile, quindi sicuramente avevano tante cose. Quassù, poi ci sono anche, qua c'è tutto un crollo che c'è stato della volta sopra, sono tutte pietre naturali, poi qua sono pietre accadastate che formavano, questa è una lavorata, ciò che resta di una vasca per abbeverare gli animali probabilmente. Questa è una botte, dove si vede ancora il segno del, diciamo, quello che in dialetto chiamiamo petruiuolo, ma poi è solfato di rame. La struttura è ben fatta, questo sicuramente, altrimenti non avrebbe retto. Ci sono i segni di una frequentazione abbastanza recente. Ve ne esco un attimino. Dicevo che è interessante l'apertura dall'alto perché dimostra un uso importante del solaio che stava sopra, quindi non è escluso che ci fossero altri animali oppure venisse usato per la conservazione di alimenti che dovevano asciugare, stagionare, un po' come sul montellese, dintorni avrei il porcino. La struttura è con un solaio, con delle fessure tra le assi di legno per far passare il fumo, far essiccare. Però qui sicuramente conservavano forse anche il fieno. Comunque ha una certa portanza questo solaio. È interessante vedere la porta murata. Dall'esterno credo che sia ormai interrata a causa della perdita, cioè del dilavamento del terreno. Qui ci deve essere qualche altra struttura, un po' di mangiatoie, qualche gabbie recente per forse conigli, polli e qualcosa. E diciamo che non mi aspettavo una così grande imponenza dell'ambiente interno, ma nemmeno mi aspettavo chissà che di trovare, tutto sommato. Però è stata una buona visita, giusto prima che questa struttura si perda o vada in malora definitivamente. Mostra segni di un restauro di non moltissimi decenni fa, probabilmente negli anni 50, 60. Comunque c'è anche un attacco per l'asino abbastanza in alto. Quindi diciamo che poi il balcone, la soglia del balcone è pure ben lavorata. Non particolarmente antica, ma comunque sempre pietra lavorata. Diciamo che è stato bello comunque venire, che avevo questa grande curiosità. Io la vedevo sempre da lontano, l'ho fotografata anche ravvicinata con lo zoom della mia fotocamera. E ho capito che qualcosa, quantomeno di importante o comunque di imponente, l'avrei trovato. E questa bella apertura, con un solaio, comunque una costruzione abbastanza complessa, è stata comunque qualcosa di interessante. Un'uscita che non ha portato a qualcosa di negativo. Qua ogni tanto si spacca qualcosa. Diciamo che non è stata una perdita, perché abbiamo documentato, ho documentato, un altro pezzo di storia delle nostre campagne. e adesso cerco di risalire, perché non è stato facile arrivare fin qui. Vedo anche se riesco anche a salire, per documentare anche il lato, diciamo, quantomeno a vista. Adesso sono un po' preso, vediamo un po'. C'è l'ingresso un po' in salita, un po' tra i rovi e le frasche. Giusto prima di chiudere, giusto per far vedere anche la facciata laterale, questa è tutta una lesione che scorre dall'alto fino al basso, la romanella. Giusto una documentazione. Quindi, diciamo, mi sono già dilungato oltre, perché dieci minuti sono tanti per una struttura di questo tipo. Quindi rimando agli altri video, al mio canale YouTube, rintracciabile con Cizzarte, ecco il cagnolino che ci ha fatto compagnia da stamattina. Rimando ai miei filmati, agli altri filmati fatti sul territorio, sul mio canale YouTube. Quindi chi vuole iscriversi potrà essere sempre aggiornato sulle varie mie pubblicazioni nuove. Quindi ringrazio anche per l'attenzione. Alla prossima e buona giornata per quel che riguarda tutti quanti. Salve!